Oggi siamo qui con il professor Demetrio Spinelli. Oggi è stata presentata un'attività di prevenzione a Milano che metterà per le strade questi pullman all'interno dei quali la cittadinanza potrà fare dei test gratuiti della vista. Ce ne vuoi parlare? Sì, questo casca nella settimana mondiale del glaucoma. Il glaucoma è una malattia che noi chiamiamo questo sconosciuto, il ladro silenzioso della vista. È una malattia che porta alla cecità senza dare dei segni clinici, senza dare una sintomatologia soggettiva. Quindi questo è importante che la persona, l'individuo, soprattutto al di sopra dei 40-50 anni, ogni anno o due anni faccia una visita oculistica dal medico specialista. Noi con questa iniziativa cerchiamo di portare a conoscenza della popolazione informazioni su quella che è la patologia glaucoma, patologia che può essere curata se viene diagnosticata per tempo e contemporaneamente ricercare i fattori di rischio e fare dei rapidi test per individuare questi fattori di rischio. Perfetto, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a tutti.